Non è bruttissimo, come segnalato sulle chat di WhatsApp, ma l'incidente verificatosi questa mattina sulla strada provinciale 161 sul territorio comunale di Cantone e dintro d'acqua ripropone il tema della sicurezza sulla viabilità nell'incrocio del semaforo non funzionante. L'ennesimo sinistro si è verificato nella prima mattinata di oggi. A finire in ospedale, a titolo del tutto pregazionale, è stato un uomo sulla cinquantina che si sarebbe scontrato contro un'auto. L'incidente ha danneggiato lo specchio convesso posto all'altezza dell'incrocio in questione. Nulla di grave e di particolarmente rilevante, insomma, anche se il semaforo non funzionante nell'incrocio ha riacceso qualche rimostranza da parte degli automobilisti. La strada è di competenza della provincia dell'Aquila, già allertata da tempo dall'amministrazione comunale dintro d'acqua, guidata dal sindaco Cristian Colasante, sul difetto di funzionamento dell'impianto semaforico. Un problema che persiste da almeno tre settimane, anche di più a detta degli stessi automobilisti.